Bene ragazzi, nella lezione di oggi trattiamo un nuovo argomento che è la mentalità mediorale. L'Europa del periodo del Medioevo era un continente cristiano. Diciamo che a eccezione degli ebrei quasi tutti avevano ricevuto il battesimo. Certo c'erano ancora delle forme di paganesimo, soprattutto erano notevoli le differenze tra i cristiani, soprattutto perché il clero presente nelle campagne era un clero spesso poco istruito, per cui le sacre scritture erano non del tutto conosciute, c'era una certa ignoranza e faceva sì che la fantasia popolare avesse spesso elaborato un immaginario religioso, quindi delle immagini, vedremo soprattutto dell'aldilà, diverse da quelle che erano poi contenute nelle sacre scritture. Per il Medioevo era fondamentale l'idea di una distinzione precisa tra il bene e male, da qui la contrapposizione tra Dio e Satana. Satana è visto non come un pari a Dio, ma come, se vogliamo, una creatura di Dio. Satana è Lucifero, Lucifero l'angelo che o disobbedisce a Dio e come tale è cacciato via dal paradiso e nella sua caduta sulla terra genera un'enorme voragine che è poi quello che, secondo Dante, sarà l'imbuto profondo dove trova spazio all'inferno. L'inferno è un luogo immaginato come un luogo di terribile sofferenze, dove vengono puniti i peccati commessi in terra. È il luogo dove c'è una giustizia perfetta. Se in terra spesso le malefatte dei forti non vengono puniti, ciò non accade nell'inferno. L'inferno è un luogo inventato nella cultura occidentale, perché nelle religioni precedenti, quelle di Grieci e dei Romani, l'inferno era considerato invece un luogo abbastanza tranquillo. L'inferno è immaginato come un enorme carcere. L'invenzione ancora del Medioevo è il Purgatorio. È un luogo di cui non si parla proprio in modo esplicito nelle Sacre Scritture e compare intorno al XII secolo. È un luogo in cui i peccatori, che però si sono pentiti, attendono di purificarsi prima di accedere al Paradiso. Quindi nel Purgatorio si scontano le pene, come nell'inferno, ma qui le anime sono destinate, dopo un certo periodo, a conquistare la salvezza. L'idea del giudizio universale, di un giudizio quindi in cui venissero punite poi le anime della presenza di Dio, lo ritroviamo poi nell'iconografia dell'epoca. Ad esempio il vostro testo vi porta quelli che sono la scena, quello che viene raffigurato nel Battistero di San Giovanni. I Battisteri erano dei luoghi, in genere messi fuori dalla Chiesa, dove venivano effettuati i battesimi. La dichiarazione interna presenta questi mosaici con la figura del Cristo giudice in centro e poi una mano rivolta verso l'alto, una verso il basso, verso il basso sono verso i dannati che devono andare all'inferno e gli altri invece sono quelli che sono destinati invece al paradiso, dopo il giudizio universale. Proprio in questa mentalità medievale, dove era molto importante l'aspetto religioso, si pensava che Dio intervenisse nella vita degli uomini attraverso i miracoli. Nel Medioevo c'erano poche conoscenze scientifiche e quindi ritenevano che, soprattutto dalle malattie, si potesse guarire solo con un miracolo. Per ottenere i miracoli, ovviamente, si poteva rivolgere a Dio, alla Madonna, ma c'era anche il culto dei Santi. I Santi erano considerati come degli intercedenti, diciamo, potevano usare essere degli intermediari, quindi si potevano intercedere e fare quindi da tramite con Dio. Era anche molto sentito il culto delle reliquie, ovvero sia erano degli oggetti personali o eresse del corpo appartenuti a un santo, addirittura a Gesù, che erano conservati nei vari santuari d'Europa e la popolazione sovente attribuiva loro uno potere magico. L'idea che i Santi potessero intercedere determinò poi nel Medioevo, un po' sottistici, la specializzazione dei Santi, che ad ogni santo veniva attribuito una particolare capacità. Magari di guarire una certa malattia o proteggere qualcuno. L'attenzione che viene data ai Santi è testimoniata anche dalla grande diffusione dei racconti sulla vita dei Santi e dei vari miracoli da loro effettuati. Se abbiamo detto Dio è l'unico che può guarire o proteggere dalle malattie, di fatto l'unico modo per guarire era pregare o i pellegrinaggi. E spesso, va bene, proprio per questa ragione, all'interno di santuari di monasteri dove la gente andava a pregare, sorse degli edifici per raccogliere i malati. E monaci e moniche cercavano in qualche modo di dare sollievo a chi arrivava per chiedere poi protezione. Nacquero così i primi ospedali. Sarà poi però solo dal XII secolo, quando si diffondono le università e le facoltà di medicina, che i malati vengono curati dai medici che avevano compiuto degli studi scientifici. Prima erano un luogo solo di accudimento dei malati. Ora, se possiamo dire c'era una grande importanza data alla legione, durante il Medioevo era anche sviluppato l'idea di mondi fantastici. Il mondo antico aveva creato dei miti e delle leggende fantastiche, va bene, il Medioevo crea delle leggende fantastiche che narrano di cavalieri che lottano per liberare un Adamo, per portare giustizia al popolo, di fate, di maghi, di giganti, di mostri. E molti di questi trovano spazi nei non romanzi, che poi ancora adesso anche nei cartoni animati, va bene. Erano molto apprezzate dai nobili questi racconti. Un altro aspetto interessante è quello che è legato al cosetto paese di Cuccagna, cioè l'idea che ci potesse essere un luogo immaginario dove si potesse vincere la fame. Allora, la prima descrizione di questo immaginario luogo risale alla metà del XIII secolo, siamo alla metà del 1200, e si narra di un giovane, che si racconta di un giovane e che attraverso una ragione ricca di molte cose meravigliose. Il paesaggio è molto particolare, perché le case sono fatte di spigoli, di salmone, di aringhi, tetti di prosciutto, di salsiccio, e nei fiumi scorre il vino. In questo paese tutte le donne sono bellissime, soprattutto c'è la fontana della giovinezza, che fa ringiovanire la gente. Il paese di Cuccagna, che cosa rappresenta? Era il sogno di un popolo che quotidianamente soffriva la fama. Nel Medioevo c'era una carestia circa ogni cinque anni, e quindi si crea questo immaginario paese di Cuccagna, dove il cibo è presente in ogni angolo della strada, dove non è necessario lavorare, dove la fonte di guadagno è appunto l'opse, dove più si dorme, più si guadagna. Ed è un segno questo di quanto fosse difficile la vita all'epoca del Medioevo. Se ne osserviamo, abbiamo qui delle rappresentazioni, va bene, del paese di Cuccagna, di un quadro di Beruighelle. Allora, un altro aspetto interessante è la presenza del Carnevale. C'era un periodo dell'anno in cui anche in terra sembrava quasi vivere in un paese di Cuccagna, che era il Carnevale. Il termine significa carne levare, cioè eliminare la carne, perché veniva prima della Quaresima, che è il periodo di 40 giorni che precede la Pasqua e durante il quale bisogna fare penitenza, non mangiando ad esempio la carne. Da qui si festeggiavano i giorni che precedevano la Quaresima con una festa chiamata appunto di Carnevale, in cui si faceva tutto ciò che in Quaresima non sarebbe stato più possibile fare. E quindi ci si abbuffava, c'erano feste, banchette a base di carne, soprattutto da chi poteva concedersi una tale follia. Appunto, era un giorno di follia, spesso i giovani si mascheravano, si travestivano, anche spesso da preti o da vescovi, prendendo in giro tutti e tutti. E da qui il segno del Carnevale e il Carnevale che esiste ancora adesso, nel travestimento e delle maschere. Abbiamo detto che c'era poca scienza. Per gli uomini medievali la scienza non si fondava sulla matematica o su esperimenti scientifici, come la pensiamo ne adesso. Amavano, diciamo, anche in questo caso, mescolare la fantasia e la realtà. Uno, diciamo, di quella che era considerata forse e la scienza più diffusa era l'alchimia, che il termine deriva dal greco che significa arte di trasformare i metalli. E gli alchimisti credevano di poter trasformare i fatti in metalli di poco valore, come il piombo, in metalli di valore elevato, come l'oro e l'argento. Rispetto all'alchimia ha un'origine piuttosto antica, perché il primo alchimista risale all'Egitto di 250 a.C. circa. Poi l'alchimia andò in crisi nel 642 d.C. quando gli albi si impadronirono di Alessandra e si interessarono subito all'alchimia e tradussero al greco all'armo molti testi esistenti. Poi si diffuse in Europa nel XI-XII secolo fino a quando si comprese che l'alchimia era solo una fabbrica di sogni e niente altro. Per trasformare i metalli, lo vediamo in questo dipinto, si aveva bisogno della pietra filosofale. Nel momento in cui la pietra filosofale veniva gettata in un crogiolo, il contenitore del secondo di metalli, il piombo si doveva trasformare in oro e in argento, ma era tutta una credenza popolare. Ritornando al discorso della religione, se c'era l'idea che tutta la vita degli uomini era in un certo senso misurata con un aspetto religioso, vi era secondo, in un certo senso, gli uomini del Medio un unico mondo per cui gli angeli che salivano e scendevano dalla scala che dalla terra porta al cielo e il compito degli angeli è quello di portare i messaggi di Dio agli uomini, sono appunto dei messaggeri. Quello che forse differenziava il mondo terreno dal mondo di Dio era il tempo, perché la vita degli uomini è catarezzata da un tempo, però anche il tempo era misurato, se vogliamo, da aspetti religiosi, in particolar modo dalla suona delle campane. Allora, gli uomini del Medio avevano comunque una percezione del tempo diversa dalla nostra, perché non avevano, diciamo, non era scandito dall'orologio come la possiamo pensare noi, ma il tempo veniva misurato da delle meridiani solari che ovviamente funzionavano solo con il sole ed erano quindi inutili quando non c'era il sole, quando il tempo era nuvoloso oppure di notte, oppure si misurava con le chestide che però si inceppavano e richiedevano costante attenzione. A volte per misurare il tempo si usavano le candele che però bruciavano più o meno rapidamente in base alla loro spessura e alla lunghezza materiale prodotto. A volte si misuravano col tempi delle preghiere, il tempo di un paternostro e di un ave maria. Per misurare i tempi lunghi si faceva ricorso alla natura per cui c'era il tempo dell'agricoltura, il giorno e la notte, le stagioni, i mesi calcolati sulla base della semina, dell'accordo, della natura, della mietitura. Sia in campagna che in città le fasi della giornata erano scandite poi dalle funzioni liturgiche, quindi dal suono delle campane. I primi rintocchi delle campane divennero popolari tra il VI e VII secolo mentre i campanini fecero la loro apparizione nell'VIII secolo e poi si diffusero progressivamente in modo capillare nell'XI secolo per cui ogni chiesa parrocchiale ne possedeva una. Possiamo osservare in questa immagine poi come il tempo agricolo segnava appunto il tempo poi delle varie stagioni per cui abbiamo gennaio e febbraio sono i mesi di riposo perché il terreno è gelato ricoperto di neve a marzo poi il contadino provvede alla sistemazione delle vini alla potatura degli alberi ad aprile che il numero 4 si occupa della tosatura dei montoni delle pecore 5 e 6 fra fine maggio inizio di giugno provvede a facciare l'erba il 7 è il contadino che mieti il grano ormai maturo l'8 ad agosto dopo l'emittatura procede alla trebbiatura quindi a togliere ciò che rimane nel campo 9 c'è il contadino che effettua la semina e verso la fine del mese inizia la vendemmia e a ottobre c'è la conclusione della vendemmia per cui i vari grappoli vengono raccolti e poi spremuti per ottenere il vino a novembre il contadino porti il maiale a pascolare nel bosco di querce e 12 a dicembre giungi il momento di uccidere il maiale e quindi questo era il tempo agricolo segnato appunto dai raccolti dei vari dai raccolti della semina dalle attività varie dei contadini grazie